ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua come molto spesso capita a guardare i vostri orologi che è la cosa che ci interessa di più se siamo appassionati di orologi cosa ci può essere di più interessante che andare a scrutare quello che si può trovare nei cassetti delle altre persone niente anche perché ogni tanto si trova qualcosa spesso anch'io personalmente trovo qualcosa che non avevo mai visto cioè è bello avere una panoramica così ampia di tutto quello che può esistere su al mondo non sul mercato perché poi si parla di orologi vintage usati che magari non sono più in produzione ma che possono essere sempre uno spunto no per la scimmietta che è qua sopra e dice oh guarda quello lì com'è bello farebbe starebbe bene nella tua collezione no e poi anche motivo di studio poi si vuole approfondire si va si cerca mi raccomando come partecipare lo sapete in orizzontale i video in orizzontale un 7-8 minuti non di più non di più spigliati concisi veloci e simpaticamente brillanti se si può ora mi occorre ricordarvi sabato 12 maggio anzi no domenica 12 maggio è domenica 12 maggio il quinto watch meeting il quinto raduno del canale tutti assieme vi invito a venire a trovarmi presso la gioielleria pasquale domenici di viareggio e faremo questo questo raduno nella zona antistante al negozio la zona pedonale ci incontriamo parliamo del più del meno ci sono anche dei gadget di benvenuto ma abbiamo già pensato anche a regalarvi un qualcosa e poi anche tra l'interno provare gli orologi a guardarli toccarli parlare con gli altri appassionati mi sembra di aver capito che ci sarà anche umberto perizzari mi sembra di aver capito la buttolie che è appassionato anche lui di orologi no è uomo oris diciamo così come poi ci sarà degli esponenti di alcune case orologiere a presentare gli orologi come già successo in passato insomma è un pur puri di cose da vedere da fare ma ora prima di guardare il video vi mostro l'orologio del giorno che ancora una volta questo omega speed master che con questo cinturino in coccodrillo opaco nabuc coccodrillo nabuccato nabuccato è diventato un orologio che insomma se prima avevo dei dubbi adesso non ce l'ho più proprio mi piace tanto poi ho trovato il suo scopo nella vita e lo indosso spesso e volentieri non direi con piacere ma direi con molto piacere dai passiamo al primo video dito enfocato barra spaziatrice pronta a ricevere i colpi del destino e che il destino abbia inizio ciao davide ciao valentino valentino ti ringrazio innanzitutto perché la scorsa estate ti ho mandato un video e me lo hai pubblicato sul tuo canale questo mi ha fatto molto piacere adesso voglio presentarti altri orologi che possiedo comincerei con questo qui è un mondia il movimento è l'eta 28 34 il day date mi è piaciuto molto perché il giorno in italiano ha un cinturino in coccodrillo cinturino particolare perché ha lanza da 22 e la fibria da 18 sono un po più rari da trovare infatti lanza da 22 lo fa sembrare più grande ma in realtà è soltanto un 40 mm davvero sembrava gigantesco prossimo orologio il tiso viso date questo qua è da 38 mm calibro eta 28 36 anche questo è il viso date era uno di quegli orologi dati su tiso che andava per la maggiore cioè ma adesso è un po è un acceso nelle vendite ma anche nel discorso dei appassionati perché perché sono usciti di sola ora bene ha fatto uscire un sacco di orologi negli ultimi negli ultimi anni che si sono mangiati il mercato no prx gentleman e poi non me ne vengono in mente altri ma la rete gb 1938 un sacco di orologi che si vanno a mangiare poi questi qua che erano dei best seller del passato è ecco ad esempio il fatto che questo abbia il day date lo me lo fa un pochino scendere rispetto a quelli un po più moderni come l'heritage che addirittura mi sembra sia senza data non mi ricordo è un day date però con date giorno allineati e il giorno diciamo a metà un orologio molto fine direi molto praticamente mi si vede praticamente molto riflette tantissimo molto lucido e mi piace devo dire ma sia che a me però mordeccello prossimo orologio certina ds4 questo qua eta 28 25 con la caratteristica dei piccoli secondi ore 6 e un 38 mm anche questo mi piace tanto il suo bracciale è un bello orologio è un bello orologio ora vedi certina con i piccoli secondi e la data di ore 6 piazzata 38 mm secondo me andrebbe alla grande in italia non è importata e non essendo importata in italia noi perdiamo il il contatto con il mercato con quello che sta facendo certina no ora ho parlato di tisso che sforna un sacco di belli orologi chissà magari anche certina lo sta facendo ma non vedendo noi la pubblicità al marketing non vedendo recensioni non sentendone parlare siamo allo scuro non lo sappiamo c'è però che da dire che insomma a differenza di tisso di emilton certina non la vedo così marcatamente personale cioè non non ha uno stile da dire ora te prendi emilton con l'aviazione no ad esempio con il product placement nei film insomma si fa un'identità ben precisa di dove andare a parare certina forse proprio perché non la conosciamo non gli si riesce a dare una collocazione potrebbe uscire un orologio così come un orologio cosa non so se mi spiego però è fuori dubbio che un 38 mm così fa gola a tutti e lo stabilità lo porto con tanta soddisfazione tanta soddisfazione prossimo orologio sempre 38 mm il mido il baroncelli anche questo eta 28 25 con piccoli secondi mi piace molto la sua cassa di questo dorato e anche il suo dial così di questo grigio quasi nero bassi con gli effetti di luce un po particolare è bellino si traccato però prossimo orologio il glass in combat 6 43 mm 43 orologio abbastanza massiccio nelle dimensioni è un orologio al quale io ho sostituito il cinturino trovato questo qui in pelle verde stile un po heritage bello ci sta bene fatto una bella scelta 43 mm io ho avuto per le mani io ho recensito il 36 lo scelto 36 è un gran bello orologio ora mi sovviene che faceva un po di milky ring sul quadrante quell'effetto bianco attorno al rio però per il resto era veramente un orologio che da 36 mm diventa poi da essere da considerarsi come un orologio come un fieldino invece questo qua da 43 stavo pensando probabilmente ha più senso questo qua da 43 che quello da 36 è perché deve essere così grande sfacciato sfrontato ben ben leggibile combat 6 mi piace mi piace tanto come orologio diciamo da tutti i giorni dal tempo libero questo onselite sv200 certo devo dire che mi dà anche questo belle soddisfazioni 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 e massimo orologio rimanendo sempre nel tema field watch questo è un po un field un po un pilot diciamo è il khaki mechanical di amilton se questo qui praticamente c'è il movimento a carica manuale ho visto che anche tu lo hai avuto in uno dei bravo mostravi il calibro come sai meglio di me è il meccanico a carica manuale unitas 64 97 è un orologio che gradisco a me non dispiacciono le misure generose degli orologi ne ho diversi oppure più grandi questo è 44 44 mm poi ciao anch'io se ho uno svegliarino un orologetto semplice nulla di eccezionale un pilot paliot questo qui ma il suo calibro russo 26 12 con con la sveglia integrata mi piace l'idea di un orologio con la sveglia vorrei in futuro prenderne uno più importante sto sempre un po a guardare cosa c'è in giro diciamo che molti sono 35 mm e vorrei qualcosa un po di più vedremo vedremo da il prossimo è questo è un caso ce l'ho da tantissimo tempo è chiamato world time perché c'è tutti i fusi ma diciamo quello che quello che è la storia di questo orologio è il mio orologio da utilizzare in cantina quando faccio i lavoretti del fai da te io passo parecchio del mio tempo libero col fai da te e questo oggi infatti si vede che ha perso colore c'è è stato bruciato dallo sverniciatore chimico che gli è caduto addosso e là un pochettino fuso poveri diciamo il vetro la plastica qui però fa il suo in cantina e tranquillamente lavorare senza il problema di spaccare distruggere o danneggiare l'orologio poi un'altra cosa che volevo mostrarti siccome vado in moto mi sono fatto il cinturino per un orologio da utilizzare quando vado in moto questo orologio qui è uno zeno watch basel è un orologio con il calibro 28 36 pointer adoro questa complicazione forse quella che mi piace di più il movimento con la data puntatore questo guarda che questa idea qua è geniale è veramente geniale cioè come facevano i piloti di un tempo no nella seconda guerra mondiale a indossare anche quando vedi immagini degli degli astronauti no con l'orologio sull'indumento oppure più semplicemente come chi lo indossa sopra una muta per fare le immersioni no ci sono situazioni diciamo lavorative professionali nelle quali si indossa e te hai trovato il sistema per indossarlo sul guanto quando va in moto e per vedere l'orario al volo cioè veramente geniale è anche divertente nel senso che dai una collocazione ad un orologio come questo zeno basel che è anche bello grande no ma c'è te io ho visto che c'è abbastanza grande di orologio track da metterlo con un nato sopra il il guanto e andare in moto così usandolo come uno strumento come fosse uno strumento c'è la strumentazione nella moto magari c'hai anche il navigatore nelle cartine tutto quello che serve per viaggiare e l'orologio a vista sul guanto a me mi piace questa idea non ci avevo mai pensato certo bisogna lo devi lo devi utilizzare quando fai un viaggio lungo quando fai un uscita anche media ma importanti non perché vado vado a fare la spesa con la moto vado a trovare al bar un mio amico non è che tibardi con il guanto e l'orologio sopra anche perché poi dopo levi il guanto e l'orologio cosa fai dentro dei veri risistemare al polso abito però bella mi piace questo cinturino praticamente era un nato bravo velcro spettacolo praticamente questa soluzione così in modo da poter avere ho preso un orologio e il più grande che ho questo è 47 millimetri 47 modo da avere facile la visibilità c'è dura quando sono in moto col casco e tutto però che questa mia trovata ti sia piaciuta non è un nato non passa sotto non poi praticamente io quando esco quando finisco il viaggio sotto il guanto perché quello lì lo tolgo lo metto in tasca nel marsupio sotto il guanto c'è quest'altro bravo ton man high speed 36 millimetri anche questo movimento 28 36 pointer con la data a lancetta un orologio questo qua che spettacolo bravo spettacolare mi piace veramente un sacco e forse prendo anche la versione da 43 millimetri da utilizzare al posto dello zeno e no due diverse ciao davide grazie ancora e love love ma no è come prendi lo stesso orologio da mettere sopra e poi sotto comunque geniale anche questa cosa di avercelo sotto che prima dicevo quando direvi l'orologio da sopra il guanto ecco lo strumento da viaggio lo metto via ora la scena la moto poteva rubare non lo so lo metti nel marsupio lo metti via e sotto c'è quello da 36 più fine elegante no però non prenderlo uguale che senso ha il bello è di avere due due orologi differenti no goderteli entrambi cioè sul guanto c'è il zeno bello grande da 47 e sotto c'è quella 36 di un'altra marca potrebbe essere qualsiasi altra marca ma così hai la possibilità di utilizzare due orologi differenti e nello stesso momento cioè per sfruttare comunque se mi hai svoltato la giornata e quello lì non era un nato e non è che passava sotto alla testa mi sembrava agganciato alle ansie quindi questo minus perché se sei in moto butta caso che cadino fa un incidente quello che vuoi ti prendi un colpo l'orologio vola via va a finire ovunque dice quello sarebbe sarebbe il meno il minore dei problemi l'orologio quando fai un incidente comunque se invece c'è il nato ti si sgancia un'ansa e ti rimane attaccato lì io potrei per il nato vero e proprio comunque dai mai svoltato la giornata con questa idea adesso devo trovare un sistema per emularti la moto non ce l'ho più l'ho venduta ho preso lo scooter vado con lo scooter e metto il guantone con lo scooter e ci metto l'orologio attorno figurone va bene dai bravo mi è piaciuto sto video ciao davide ciao sono nicolò nicola treviso e guardando i tuoi video mi sono sempre più appassionato al mondo dell'orologeria bravo grazie a te sto conoscendo anche nuovi marchi infatti poi ti farò una una domanda a me questa è la mia piccola collezione ed inizio in ordine di arrivo ma questo è un quarto classico casio digitale replica dei modelli del passato se torino e stringi la coca posteriore in acciaio da cassa in resina un orologio da battaglia usato tantissimo anche a mare passa via perfetto la batteria è eterna la batteria è tua nemica questo invece il noto seiko skx 007 made in japan acquistato col suo cinturino in gomma poi ho comprato il cinturino giubile giubile ultimo ho messo questo cinturino sempre in gomma comprato da moon strap che secondo a me ci sta molto bene questo un orologio da battaglia usato tantissimo che utilizzo sempre molto volentieri molto volentieri o con piacere a scelta questo altro pezzo che mi piace molto citizen aqualand full lume quindi con quadrante che si illumina anche questo diver 200 metri con in più la funzione profondimetro cronometro e quant'altro tutte cose che in realtà non uso ma mi piaceva molto il contrasto del quadrante con la cassa diciamo brunita simpatico dai poi abbiamo prx tiso prx powermatic 80 80 ore di carica orologio che ha usato che sto usando in chiuso tantissimo mi piace molto molto appunto perché secondo me è estremamente versatile l'unica pecca secondo me la dimensione del quadrante per meglio dire della cassa 40 mm fosse stata anche un 38 secondo me per il tipo di orologio sarebbe stato meglio se comunque si riesce ad utilizzare molto bene molto sottile chiaro con un bracciale con questa finitura è facile come si vede utilizzandolo spesso segnarlo però orologio che che mi piace tantissimo si l'ho recensito anch'io e mi sono reso conto che 40 mm per questa tipologia di cassa possono anche sembrare tanti secondo me solo questione di abitudine perché se ci pensi 40 mm cioè dicevo la icon da 39 andava bene sto qua da 40 perché non deve andare bene forse perché c'è la lunetta un pochino più sottile si vede un pochino più quadrante va bene 38 mm probabilmente sì però è anche vero che non siamo mai contenti da 42 te ne fanno uno da 40 no lo volevo da 38 lo fa 36 no volevo da 37 no ma però mi piaceva 36,55 perché il mio polso da 12.44 e poi uno scapellotto e avete rotto le scatoloni no nel senso ora così per esagerare non c'era mai bene una certo punto poi bisogna anche un pochino no come fa tutti arrotondare e far sentire bene certe caratteristiche che non sarebbero al top del top del top sennò non si compra niente perché ogni orologio c'è qualcosa che non va in ultima il pezzo forte cos'è della mia piccola collezione che questo regalo è stato fatto dalla mia compagna rolex submariner 14 060 orologio del 2000 del 2008 basta acciaio 40 mm 300 metri di profondità la scheda tecnica sappiamo da tenuto veramente molto molto bene orologio bellissimo bellissimo a mio avviso intramontabile e intramontabile ho letto che gli esperti o gli appassionati per meglio dire considerano questo il vero submariner in quanto privo di datario diciamo che è stato un lanello di congiunzione tra il vecchio tra virgolette il moderno a prescindere da ciò si dicono che bisognerebbe indicare questo con il nome rolex submariner e quello con la data rolex submariner date e non il contrario che si fa come si fa solitamente si dice il rolex submariner e poi si dice questo qua è il no date no al contrario dicono che bisognerebbe fare così me portano una sepia mi importa no credo che sia un relogio comunque elegante sportivo elegante sportivo a mio parere appunto intramontabile tra l'altro bellissimo volevo chiederti due cose poi una si riferiva a un acquisto che mi piacerebbe fare un marchio che ho conosciuto da te zrc io sono sempre stato attratto dagli orologi neri e questo appunto è nero me lo consigli io ho provato in realtà il gran fondo 300 in acciaio con cinturini in acciaio il leg to leg è importante per il mio polso da circa 17 centimetri e mezzo però questo 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 orologio mi piace veramente tanto e se con chiaro le dimensioni sono importanti anche lo spessore quindi magari si può usare di più magari che sono appunto in estate con una maglietta piuttosto che che una camicia che magari potrebbe dar fastidio al polsino però secondo me è un orologio molto valido me lo consigli e seconda e te lo consiglio cioè sembra quasi che c'è che domanda è lo vedo lo vedi lo senti anche te da solo che ti piace quell'orologio lì quale può essere l'impedimento all'acquisto di un orologio del genere io non ne vedo il lag to lag col polso piccolo ma che sono discorsi che lasciano il tempo che trovano il lag to lag lì lo consideri anche tenendo presente della prolunga della corona che ad ore 6 cioè ecco lì è un orologio da considerare attrezzo di lavoro no un tool watch un orologio da immersioni con tutti i brevetti che hai contro brevetti una volta che ce l'hai al polso e poi vedrai che ti passano tutte le pattugne perché è spigoloso è sfacciato è sfrontato è di presenza non per le dimensioni ma proprio come conformazione con tutti quegli spigoli la zigrinatura la corona bella presente è un orologio che deve che deve essere presente poi a volte mi vende a ridere quando parlate di polsini della camicia perché a me l'orologio prima che mi arriva il polsino quassù cioè ne deve fare di strada meno me rovina i polsini della camicia queste qua da davvero uomo da uomo di siato degli anni 90 non me le rovina poi col polsino mi rovina al polsino scappellotto in testa e via no cosa volevo acquistare una di quelle lavatrici a ultrasuoni amazon 30 40 euro 45 hertz ho letto pareri discordanti certi dicono che si possono immergere completamente gli orologi non succede nessun tipo di problema anche perché sono cicli di loaggio di 3 4 minuti altri invece vietano o meglio sconsigliano di immergere totalmente l'orologio per evitare problemi agli ingranaggi interni insomma al movimento tu ne sai qualcosa di più grazie e un saluto un saluto saluto a te io ne so qualcosa di più io lo sconsiglio cioè secondo me no ma io non sono un tecnico non sono un orologiaio ma in quel cavolo di vaschetta lì che è così e piccolina non è niente di che va a vibrare a una certa frequenza per lavare il metallo no ma ultrasuoni c'è un liquido ci metti uno chantecler dentro no poi vibra e sta per 3 4 minuti ma a me solitamente il bracciale in 3 4 minuti non mi viene pulito io devo fare più lavaggi no vado lì controllo no no ancora uno ancora uno ancora uno vado avanti così all'interno della cassa dell'orologio c'è il meccanismo no ora a parte gli ingranaggi che cosa vuoi che gli fa ma la spirale è veramente una cosa delicata no la vibrazione poi la vibrazione potrebbe anche non dare non dare fastidio non dare non creare danni nove volte su dieci sei fortunato poi quella volta che ti crea il danno magari c'è bisogna che tenere conto che le vibrazioni non danno non danno fastidio non creano danni poi c'è quella volta che vanno in risonanza ma anche parlando di fisica generale non la vibrazione di un di un palazzo di un grattacielo di una struttura quando la vibrazione va in risonanza crea dei danni alla struttura figuriamoci in un orologio dove c'è dentro il bilanciere con la spirale queste vibrazioni qua per dei minuti per dei minuti cosa può succedere non lo so non sono un tecnico ma perché vuoi rischiare la testa dell'orologio te la lavi se a vite come faccio io sotto il getto dell'acqua con sapone neutro lo lavi per benino e non gli succede niente ma anche se non è io fino a cinque atmosfere l'oris big crown che c'ha con una vite però cinque atmosfere lo lavo sotto sotto l'acqua del rubinetto tranquillamente con una mano sopra per non fargli arrivare il getto però si bagna e lo lavo gli altri li puoi lavare a secco con un cotton fiocco con uno stracetto con uno spray anche per gli occhiali no perché metterlo dentro una lavatrice ad ultra suoni con tutti i rischi che comporta fa un po te c'è ma anche solamente il fatto di sentire qualcuno che dice sì qualcuno che dice no io farei no perché devo rischiare perché devo prendermi un rischio ciao davide buonasera sono antonio antonio innanzitutto complimenti per il canale come al solito c'è poco da dire numero uno come sempre ti faccio vedere la mia piccola diciamo collezione sono fatta e diciamo composta solo da sei orologi chiaramente in passato ne avevo altri però poi li ho venduti perché come tutti si fa un percorso mi ricordo una volta parlasti di un che iniziassi con un emporio armani io con un festina quindi si impara poi si studia e ci si appassiona cose del passato primo orologio e il questo emilton con la cassa tonno carri master questo non so nemmeno se sia più a catalogo tra l'altro non lo so è un orologio che comunque è rifinito bene diciamo parti satinate con parti lucide il bracciale veramente molto solido poi la precisione di questi emilton veramente pazzesca nonostante non siano certificati cosco ma quel calibro l'h10 veramente regolato quasi perfettamente scartano sei secondi forse questo qua non lo so se si all'h10 si forse si boh beh sì penso di sì non so di che di che periodo è questo orologio perché potrebbero anche essere quelli col 28 24 però se mi dici t hd e ci mi fido è veramente impressionante quindi niente questo parte la famiglia di jazz master jazz ma come dicevo è un pochino spesso però è un bell'orologio molto credo che abbia otto anni e questo è il classicissimo kaki field automatico questo l'hai recensito in maniera impeccabile come al solito e come si dice l'orologio di sempre di tutti i giorni le veri diciamo il le veri dei watch come si dice e di kaki field ne ho avuti quattro che mi ricordi almeno quattro ho avuto prima il kaki field kaki field 42 poi ho preso quello da 40 e poi ho preso quello da 38 che sarebbe questo e poi ho preso anche quello a carica manuale da 38 con tutta la cassa e bracciale saviati che veniva quel grigio quel grigio plasticoso che quattro ne ho avuti diametro kaki field e andiamo avanti poi questo è un bon merci è da 27 mm questo e sarebbe praticamente femminile io l'ho preso da una mia zia si può dire che doveva doveva andare dare via e l'ha voluto dare via e l'ho preso io ti dico la verità io un polso 17 ma lo indosso lo indosso ugualmente chiaramente questo degli anni 80 e il bracciale ormai un pochino lasco però io lo indosso ugualmente perché mi piace chiaramente perde un minuto abbondante al giorno però noi chi ne si può fare una colpa insomma è un orologio degli anni 80 ma si e ha il suo perché chiaramente è piccolo veramente piccolo è uno degli ultimi 6.5 sport bravo bravo io non sono un amante del mare devo essere sincero però quelle poche volte che capita di andare al mare di fare il bagno ho deciso di prendere questo 6.5 sport perché nonostante abbia solo 100 metri di impermeabilità però vanno bene 5 sono fatti bene cioè questi qua gli ultimi quindi al mare va più che bene insomma è un orologio che indosso anche non solo al mare indosso anche in inverno chiaramente e sono fatti bene c'è poco da dire certo ma hai detto il contrario per l'amore di cio è un prx eccolo lì al quarzo però ed è un l'ho voluto io al quarzo questo è da 36 mm l'ho voluto io espressamente al quarzo per per la storia del prx che nasce al quarzo quindi io volevo questo orologio così non per quanto sia fantastico anche quello da 40 automatico c'è anche il 36 automatico però 35 io per mio gusto personale ho voluto questo qui al quarzo per la ragione del della storia del prx che nasce al quarzo ma è chiaramente sono gusti personali poi il pezzo forte mio qual è questo time da 39 mm questo si può dire che è la versione premium che si può dire dello zulu time questo costa anche un bel po di più rispetto allo zulu time normale queste da 39 mm io ho aspettato che uscesse quello da 39 perché avendo un polso 17 forse il 42 mi sembrava un pochino grande ho preso questo qui da 39 questo orologio è di una bellezza incredibile questo è in oro io inizialmente appena l'avevo visto pensavo fosse una placatura invece no ho scoperto che la corona e la ghiera sono in oro 18 carati quindi ecco il motivo per cui costa un pochino in più rispetto agli zulu time normale questo orologio c'è poco da dire è proprio bello da da vedere c'è è proprio un piacere guardarlo certo c'è questo bellissimo fondello bello in acciaio piatto decorato bene chiuso ti dà proprio un senso di sicurezza di di affidabilità la non jean sta lavorando veramente bene e credo che non abbia nulla da togliere diciamo rispetto a un tudor gmt per quanto costino qualcosina in più i tutor ma questo secondo me fa un figurone poi questo c'è il calibro 8444 mi ricordo sì quello credo che sia che praticamente uno dei dirigenti della longina mi ricordo quando fu presentato quello da 42 proprio all'inizio un anno e mezzo fa credo è uno dei dirigenti disse che praticamente questo calibro era praticamente di proprietà cioè che nessuna altra casa poteva incassarlo e parlando poi con amici con amici con appassionati qualcuno diceva che evidente era era un derivato dell'età 28 93 che quello però però non è non è vero perché io mi sono studiato visto mi sono informato bene praticamente il 28 93 a il il modulo solo tempo e poi viene aggiunto quello gmt quello gmt praticamente questo invece è il il 28 92 si può dire anche se mo si chiama a 31 se non sbaglio l'età 31 e qual è la differenza praticamente il 28 93 alle sfere i minuti che si si regolano assieme questo qui invece è praticamente è la sfera di ora dell'ora locale che è saltante indipendente quindi chiaramente non si perde neanche un minuto la cioè quando tu lo regoli non non hai nessun tipo di problema invece con il 28 93 bisognava resettare tutto l'orologio e chiaramente poi bisognava puntare la sfera gmt sul sul fuso orario di casa sì ok ma non è che è meglio uno è meglio l'altro dipende da cosa ti serve questo qua questo sistema qua viene chiamato anche traveler gmt cioè per chi viaggia cioè nel momento in cui tu arrivi in un luogo devi cambiare la la sfera dell'orario locale cambi la sfera delle ore è saltante quella piccola tac 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 e imposti l'ora locale lasciando il freccione sull'ora di casa quindi non devi modificare niente se però al contrario a me mi serve modificare l'ora del posto con questo lavorando si chiama infatti office gmt io da casa con il 28 93 posso impostare l'ora il fuso orario di un altro paese all'estero senza modificare la mia il mio orario di casa quindi se lavoro con gli stati uniti che sono sei ore di differenza metto il freccione sulle sei ore senza toccare l'orario di casa è capito quindi c'è il pro e il contro questo per chi viaggia quell'altro per chi sta a casa e vuole avere orari del fuso e questo c'è la spirale in silicio chiaramente è un orologio fantastico è quello presente che indosso di più ultimamente perché avendolo comprato da da qualche mese e non riesco più a toglierlo dal posto perché veramente di una bellezza unica a questa scatoletta qui così che però a me non dispiace nonostante sia un po retro però a me non dispiace perché chi lo roggio è fatto è fatto veramente troppo bene proprio un piacere guardarsi e niente davide questa è la mia breve collezione spero spero insomma sia piacevole e niente ti mando un caro saluto un caro saluto fino così se il numero grazie grazie ciao 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 e niente cosa vuoi che ti dico questo ultimo il longin zulu time è veramente un bello orologio l'ho sempre portato così sia da 42 che da 39 che probabilmente più compatto più simpatico che c'è anche speso dei soldi come hai detto ti è perché hai scelto la versione premium a con gli accenti in oro quindi bisogna proprio aver voglia di spendere dei soldi in più perché sono uno si vuole togliere lo sfizio di avere un solo time prende un acciaio e contento no acciaio e oro anche se loro non è tantissimo costa di più bravo poi per il resto del discorso sul calibro gmt l'ho spiegato quale più conveniente per chi per come per dove c'è il vantaggio ad esempio che sul 28 93 come mio brightling cronomat io posso cambiare la data dalla corona invece su questo qua sullo zulu time devi far tornare indietro l'orario alle 10 arrivare le due si deve cambiare la data facendo avanti e indietro con le lancette poco male cioè ci sono funzioni che possono essere utili a uno o all'altro ognuno deve scegliere l'orologio in base alle proprie esigenze poi siccome a me della sfera gmt non me ne frega quasi niente quando compro un gmt lo compro per la bellezza dell'orologio non perché utilizzo la funzione gmt poi se dovessi anche se dovessi andare all'estero il sistema col 28 93 lo trovo cioè non cambia niente comunque poi torno sempre al discorso che ho fatto qualche video fa che sul fatto della funzione gmt in un orologio a me mi basterebbe avere veramente una ghiera su 12 ore addirittura su 12 ore senza nemmeno la quarta lancetta la terza lancetta una ghiera su 12 ore mi giro la ghiera su un orario poi vado a memoria secondo me sarebbe veramente il top proprio la semplicità assoluta proprio la nazionalità guardate un po' la sofisticatezza ciao davide ciao luca e vorrei mostrarti la mia piccola collezione di orologi bravo parto subito col mio primo orologio in assoluto che è questo citizen promaster vr 100 che è stato un regalo dei miei nonni per la mia comunione bravo è un orologio che ho portato per molti anni e per molti anni è stato anche il mio unico orologio come si vede anche dai segni presenti sulla clasp yes ancora oggi lo indosso con piacere alcune volte molto comodo poi con la prolunga per la muta che in estate fa sempre comodo comunque un orologio che non uscirà mai dalla mia collezione per via del suo valore affettivo tipico esempio di design anni 90 ti faccio vedere questo sector degli anni 90 è uguale anche questo modello 650 200 metri di impermeabilità vetro zaffero lo uso per andare al mare corona vite costruito veramente bene come si può vedere anche dalla sua chiusura dalla sua clasp e dal suo bracciale diametro contenuto 38 mm che va benissimo sul mio polso da 17 va continuando con i settori faccio vedere questo sector 975 gonfia che ha la particolarità di avere la funzione cosiddetta rattrapante nel senso che si azioniamo il cronografo ci sono due lancette dei secondi cronografici indipendenti sì ma è quarzo e consentono di misurare due intervalli ho capito io ti voglio tanto bene ma un conto è esaltare delle complicazioni aggiuntive come rattrapante flyback o gne 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 su un orologio meccanico che per farle devi stare a calcolare allora quando questo ingranaggio fa così quell'altro deve fare così è un conto è che su un orologio al quarzo che programmi il chip e gli dici tron print e un pram pram capito va bene comunque continuiamo comunque sei un amante dell'orrido scherzo non dell'orrido del design degli anni 90 perché vedo qualche con i sector ci dai dentro la grande cioè non siamo ancora pronti per tutto questo anni 90 tutto un botto così non siamo non siamo ancora abbastanza lontani da quel periodo per assorbire questo design e farlo nostro e trattarlo come fosse un vintage qualsiasi fa ancora un po repelle repelle resetta benissimo anche questo costruito molto bene dovrebbe essere della fine degli anni 90 primi 2000 peso importante pesa quasi 200 grammi una forma molto particolare che può non piacere a tutti a me personalmente piace tantissimo per te che ho anche la sua versione solo tempo gonfia questo è praticamente inutilizzato la ghiera magnificamente bellina sta ghiera qua scatti con una vite 200 metri di impermeabilità anche questo costruito veramente veramente bene poi ti faccio vedere un altro cronografo al quarzo che è questo philip watch aquatec che purtroppo ha un problema con la parte cronografica perché la lancetta dei secondi cronografica perché la lancetta dei secondi cronografici non si muove più dovrei portarlo a fare una piccola revisione è costruito anche questo come tutti più o meno gli orologi che ho molto bene e anche i pulsanti del crono sono a vite bello dai veramente bello ma lo indosso poco è praticamente inutilizzato ancora la sua pellicola sul fondello se avessi avuto le lancette nere sempre al quarzo ti faccio vedere questo universal geneva ma com'è quarzo che è l'orologio al quarzo che indosso più spesso soprattutto quando i miei orologi automatici sono scarichi o quando ho bisogno di un orologio preciso e affidabile anche questo costruito bene un po' vissuto ma molto molto bello molto molto bello ci siamo infine per quanto riguarda i quarzi ti faccio vedere l'orologio più elegante della mia collezione che è questo Longines degli anni 80 al quarzo a diametro di 34 mm corona logata bracciale originale anche esso con la chiusura logata è un orologio di cui non so praticamente nulla tant'è che ho scritto alla Longines aspetto adesso una loro risposta per vedere più o meno di che si tratta comunque un orologio molto elegante che utilizzo nelle occasioni più formali passando agli orologi automatici ti faccio vedere un altro philip watch che ho acquistato dopo aver visto la tua recensione dell'imacos versione crono è sì la versione solo tempo che monta un età 28 24 ce l'ho avuto anch'io io avevo ho comprato il philip watch imacos cronografo era fatto più o meno così mamma mia insomma con i pulsanti cronografici insomma in versione cronografo no perché l'avevo preso perché avevo cercato su ebay su ebay cercavo un orologio con calibro 77 50 giusto per avere un cronografo meccanico con 77 50 che costasse poco quindi mi divertivo a scrivere il nome del marchio con di fianco 77 50 poi guardavo i risultati della ricerca su ebay no scrivevo per esempio lorenz 77 50 philip watch 77 50 ma poi non me ne vengono in mente altri sembra anche braille 77 50 insomma qualsiasi nome ti veniva in mente e si trovavano a quel tempo con 350 325 euro dei cronografi usati anni 90 2000 questi 77 50 dentro quindi se ti vuoi togliere lo studio da avere un cronografo meccanico da utilizzare no e io avevo preso il philip watch imacos che era come questo aveva un design particolare però era veramente spesso io mi ricordo che era veramente spesso spesso poi col vetro a cupola infatti poi l'ho venduto perché non lo indossavo con piacere non faceva il suo bianco argente questi riflessi che al sole danno loro del loro meglio e bracciale integrato un orologio particolare ma che indosso non spessissimo devo essere sincero però che mi dà parecchie soddisfazioni parecchie soddisfazioni altro automatico sempre philip watch e questo e tutti i sector e tutti philip watch oh ma cosa facciamo qua cosa è svaleggiato una un concessionario che stava chiudendo e stava dismettendo perché insomma va benino sector philip watch tutti non se ne può più non ne posso più la lavorazione particolare del quadrante corona vite vetro zaffero movimento eta 28 24 fondella a vista bracciale comodissimo che si adatta perfettamente al polso ed è uno degli orologi che indosso ecco fatto questo qua è l'esempio che facevo prima no quando dicevo che per me un gmt potrebbe essere un orologio normale così come questo con la ghiera sulle 12 ore eccolo qua se si ruota penso che ruota quindi te imposti il secondo fuso orario muovendo uno di quei numerini lì sulla sfera delle ore e sei a posto no più spesso in assoluto poi ti faccio vedere questo lorenz gonfia sempre via ma che va cavolo tutti anni 90 lorenz philip watch sector ma ti diverti a comprare i marchi i marchi quelli che somma dai tu dai e non se non voglio dire cose però anni 90 un orologio che ho preso da poco a un prezzo ridicolo questo quadrante con questi riflessi blu soleil veramente molto bello omaggio sicuramente del più famoso dei just bracciale stile sì quello non è un problema omaggio al più famoso dei just ci sono gli stilemi non è che sia una coppia che dice lo vedi ci sono gli stilemi così come lo era però anche il login di prima cioè diamo atto a insomma a rolex che ha ispirato tantissimi marchi cioè che è cosa diversa ad esempio da da lorenz di quello che sta facendo adesso perché se ti avessi sul sito di lorenz si vede veramente delle coppie quasi uno a uno dei gmt dei submariner che non si può qua insomma tanto tanto un pochino si salva non lo comprerei mai non lo vorrei però ha influenzato e continua a influenzare gli stilemi rolex e president credo che monti anche questo un età 28 24 molto preciso e leggero diametro 38 mm anche questo lo porto molto spesso ma ci starebbe bene un braille ce l'hai un braille non ce l'hai poi qui sicuramente scatterà il chofec alert per questo san martin sn 020 questo dovrebbe montare un epson yn 55a che è la versione non marchiata del movimento che monta anche l'orient kamasu corona vite questo vetro bombato veramente molto bello e gli indici applicati con finitura dorata bracciale fatto veramente veramente bene i finali si incastrano alla perfezione con la cassa la clasp è veramente molto solida le elaborazioni sono fatte benissimo anche questo è un orologio che porto quasi tutti i giorni mi piace proprio perché è un omaggio sì ma è un misto con il quadrante con gli indici applicati le lancette mercedes e la cassa oyster è un minestrone veramente soddisfatto di questo orologio per me può rimanere risolto ovviamente tu non sarai d'accordo ma tant'è poi il mio unico orologio a carica manuale è questo edox di cui non so anche in questo caso molto so solo che monta un movimento asst 1950 dovrebbe essere se non erro con la sua corona logata un orologio da dal diametro contenuto 34 mm anche questo lo indosso nelle occasioni diciamo più formali molto bello e molto preciso tiene bene il tempo e tiene anche bene la carica bello carino quelle d'ossi infine ti faccio vedere i miei unici due cronografi automatici questo princeps ci mancavano dopo dopo sector lawrence philip watch un princeps ci mancava proprio io ho detto ora vedrai c'è fuori un braille no è venuto fuori il princeps proprio quelle marche anni 80 90 che hanno completamente perso appeal al giorno da giorni d'oggi no con movimento età 77 50 questo orologio avrebbe bisogno di una bella revisione perché la corona si impunta e il disco datario al momento del cambio data si blocca facendo bloccare di conseguenza tutto l'orologio tranne che per quanto riguarda i secondi piccoli secondi quindi a più presto lo porterò dall'orologiaio per farlo diciamo controllare bravo cosa c'è infine l'ultimo ti presento il pezzo forte della mia connessione che è un orologio che ho acquistato diciamo da poco e volevo assolutamente oh top questo bright in cronomat finalmente in referenza B13047 quindi la seconda serie con gli indici applicati e i cavalieri in oro veramente un orologio stupendo mi piace condizioni ottime considerato che ha più di 30 anni e sono veramente contentissimo di averlo acquistato adesso anche perché ho visto che i prezzi comunque stanno aumentando negli ultimi anni e come dici sempre tu meglio acquistarlo quando si può e non pentirsi poi dopo bravo e niente Davide questa era la mia collezione fammi sapere cosa ne pensi un saluto a te e agli amici del canale e continua così love ti sei salvato con quest'ultimo bright in cronomat che nonostante essendo figlio degli anni 80-90 riesce a me a emozionarmi maggiormente rispetto al design di tutti gli orologi visti prima di quello lì che sono dello stesso periodo ma come mai come non mai mi risultano ostici da digerire bright in cronomat ci piace tanto per il resto gli altri ragazzi sono tutti dimenticabili io sinceramente capisco dimenticabili non voglio essere cattivo hanno un senso perché si può anche collezionare questa tipologia di orologi anni 90 con quel design lì degli anni 90 che come dicevo prima siamo ancora un po' troppo vicini 30 anni non sarebbero nemmeno pochi però un po' meno diciamo 20 perché 99 siamo ancora troppo vicini per riuscire ad averli digeriti assimilati metabolizzati e dire oh guarda che bel vintage no hanno un design che fa male fa male a guardarlo capito però al stesso tempo può essere anche interessante collezionare degli orologi con il design cattivo ostico infingardo poi arriverà il tempo che si riusciva a apprezzare te ce li hai già vabbè mettiamola così orologi dimenticabili che te ti sei ricordato di avere per poi fregarci quando torneranno di moda bravo prossimo video ciao Davide ti volevo presentare la mia piccola collezione cominciamo con il quartz dai questo moonswatch bello lo so che è molto discusso questo orologio ma secondo me è il suo perché è il suo perché un giocatolone un gadget come dici te un gadget un gadget dai poi poi questo tisso al quarzo PRC100 eh a me mi piace questo coronavite vetro zaffero questo orologio l'ho preso quando è nato i miei figli a massa girondolavo per le vie di massa ho visto questo orologio mi piaceva quadrante blu e lancetta gialla e l'ho preso a massa mi piace mi piace classico casio ff91 lo conosciamo tutti ma certo poi questo gucci time ps 7700 crono l'ho preso era il mio primo orologio l'ho messo per 17 anni 18 anni poi è venuto il covid mi annoiavo vedendo qualche video ho ricominciato a vedere la passione dell'orologeria cambiare la batteria l'ho cambiato 4 volte in questi anni non ho mai avuto nessunissimo problema questo lo dici ti questo lo dici ti non cominciamo a spargere notizie falali se tendiziosi la batteria è tua nemica lo sapete tutti quindi non cominciai a dire che uno ti ha dato problemi hai fatto finta di non vedere problemi l'hai cambiata 4 volte intanto l'hai cambiata 4 volte però dovete sapere che la meccanica ti dà una mano e che la batteria è tua nemica questo lo dovete sapere Gucci Gucci poi Gucci Gucci bellissimo a me mi piace bellissimo Gucci bellissimo no dai questo caso appartenere a mio papà dunque me lo tengo va bene per l'amor del cielo dico niente cominciamo come un vintage vai questo Veta movimento 210 del 62 se non erro con movimento 210 base ETA mi piace mi piace mi piace mi piace un mercatino ho fatto una piccola revisione funziona perfettamente ci ho messo questo cinturino in pelle artigianale certo ci sta bene ha zecchato tutto bravo bravo complimenti VETTA poi abbiamo questo Tissot Bridgeport V560 questo è proprio degli anni 90 a 99 l'ho preso anche nuovo fondo di magazzino 37 mm 77,50 mi piace semplice elegante fondo di magazzino per forza è rimasto lì chi lo vuole però poi abbiamo questo Bomme Mercier Riviera Borsier come l'ha pronunciato è francese sto qua ho detto Bomme Mercier ha detto Bomme Mercier pronunciaci tutti i nomi in francese facci godere vai sparali uno dietro tra l'altro uno dei pochi esemplari dove non si trovano le vite sulla lunetta questo secondo me è uno dei più più belli più semplici diciamo ok è sempre con il movimento 77,50 si Bomme Mercier anni 2013 quadrata e bianco secondo me anche i numeri romani c'è il suo perché su questo erologio si c'è il suo perché dai Eberhard otto giorni di riserva di carica brevettato brevetto Eberhard che se non ero ha preso il progetto anche la Panerai per il suo otto giorno funziona bene secondo me molto elegante orologio può essere considerato come un dress watch 8 jours 8 jours come si dice non lo dice 8 jours poi abbiamo questo Mondia quando faceva parte ancora della Zenith vabbè però addirittura la corona è proprio firmata Zenith un po' come sistema Tudor e Rolex ci sono pezzi proprio della Rolex sui orologi vecchi della Tudor lancette della Zenith movimento 77,50 si piace le cronografie via molto retro anni 80 questo design particolare poi abbiamo questo Super Seawolf della Zodiac Super Seawolf con la lunetta in zaffiro spazzolata secondo me è un bello orologio 39 mm ero indeciso con quello tutto acciaio o questo o questo sportivo quello ho preso questo si dai però sono entrambi belli SPT111 se non erro non di manufattura ma comunque equo all'ETA e al Zedita si più o meno si STP non SPT poi passiamo all'orologio di mio figlio questo è un Sixteen Seiko Presage la Seiko Presage dillo con la lancetta riserva di carica è ora e 6 giorno del mese molto particolare una bella cassa mi piace un cinturino in pelle artigianale ci sta benissimo che secondo me gli dà un tocco più vintage ma pronunciami Presage dai no niente classico anch'esso di mio figlio l'alpinista bello questo qua ci piace lo conosciamo tutti con la busola interna al suo perché bello bello si poi poi passiamo al mio pezzo più o meno forte e questo Omega Speedmaster Racing che è l'ultima referenza del 2020 poi sono passati ai modelli di 44,5 mm e secondo me costano ancora molto portabilissimi sono ancora di dimensione umane per un Speedmaster secondo me 42 l'ho provato era troppo grosso il Moonwatch per il mio posto da 17 ho visto quello a Pisa c'è un concessionario Omega e me lo so fatto mio mi è subito piaciuto anche questo quadrante bianco particolare non se ne vedo tanto in giro a me non mi è mai piaciuto questo Speedmaster qua Racing come si chiama con quei quadranti di sotto quadranti colorato i sotto quadranti con quella trama fitocarbonio troppo sportivissimo non mi è mai piaciuto movimento 3-3-3-0 coaxial cronometro ah si niente da dire mi piace tanto piace tanto poi abbiamo questo Longin vintage 62 se non erro mi sa che non ero perché mi sono informato con movimento 19.4 19 con movimento che misura 19.4 millimetri perfettamente funzionante tutto originale corona vetro trancette quadrante un po' sbiadito ma un po' fiorito ma bellissimo perfetto ci piace così un po' vissuto se no di cosa stiamo a parlare ho questo edox che faceva passante della Lorenza all'epoca carica manuale AS perfettamente funzionante con i suci bracciale originale ho provato io un po' a lucidarlo ma più o meno non so se faceva parte della Lorenz all'epoca io mi sembra di aver capito che Lorenz importava gli edox in Italia e ci metteva ci faceva mettere sopra il doppio logo mi sembra che fosse così questo funzionava anche perfettamente ho anche il suo fratello gemello a carica automatica secco dai un colpetto questo un festino al quarzo che avevo regalato a mio padre 30 anni fa va bene funziona ancora tuttora peccato basta ti ringrazio spero che pubblicherai il mio video ma sì alla prossima ciao 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 e niente dai si sente che è francofono l'amico qua non so di dove però non ci ha pronunciato i nomi in francese come ci piace a noi un bel car poterà spararli invece non ha detto niente solo boom merci niente dai cosa voglio che ti dico c'è i begli orologini vintage alcuni un po' dimenticabili non me li ricordo quasi più nemmeno fammi un po' vedere cosa dicono ah sì il migliore secondo me è l'Eberhard 8 giorni quello lì con la riserva di carica l'orologio oppure lo Zodiac lo Zodiac Super Seawolf quella lì mi piace anche tanto 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 sì quelli lì poi quello che dovrebbe essere l'orologio di punta cioè l'Omega Speedmaster Racing a me sinceramente non mi è mai piaciuto e non mi piace preferisco altri modelli dello Speedmaster come questo e altri questo il Racing zero mai piaciuto va bene dai ragazzi mi sembra di aver detto tutto a me vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi ho guardato tutti questi video con me spero vi siano piaciuti che vi sia piaciuto anche il video del presentatore e non mi resta quindi che ringraziarvi e ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love grazie a tutti Grazie a tutti.